Quindi il bullismo spesso viene confuso con altre forme di aggressione intorno della scuola, di prepotenza. Il bullismo spesso è che gli atti di turismo accendono quando nessuno vede. Allora noi vorremmo attraverso questo ruolo accendere un grosso riflettore su questo ruolo. I ragazzi, io come te, avranno proprio il foco sul tuo credito della sostituzione. La reazione normalmente degli adulti è arrangiti con le tue forze, dimostri che sei forte. Ma un ragazzino che è psicologicamente subito di una situazione non ce la fa, non ce la fa. C'è la dinamica, c'è il bullo, ci sono dei militanti, ci sono i sostenitori, ci sono gli osservatori, c'è il difensore, ok? E alla fine c'è la vittima. Ci interessa creare in ogni scuola un piccolo nucleo di insegnanti kamikaze che ha la mia voglia di fare un lavoro più specifico. I don't know if I can make it through If I could make it through Without friends like you